... ... Però, torridi! ... Lanciatore di pagando della prossima volta. Ragazzi, pensiamo che metti a fare meglio, sulla spada, domenica. Oh, cazzo, non le chiave, eh? Che è successo? Tu devi prendere il capo libero, questa non la possiamo perdere, fagli il nodo. Ok, sicuro che vuoi che scenda, io posso andare? No, no, adesso scendi. Com'è? Eh, tieni sta corda, tieni, stira. Ripostate il trafalo? Ripostate il trafalo? Ripostate il trafalo? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti